Buongiorno a tutti, sono contento di dare il benvenuto amici, allievi che sono in presenza ma anche che ci seguono via streaming per la presentazione del Libro Amico, un'iniziativa che abbiamo all'interno della Facoltà Ventista di Teologia di Firenze e il Centro Culturale Cexur, che prova a mettersi in contatto, in dialogo con gli autori che hanno prodotto delle opere, quindi dei libri conosciuti in diverse aree come stimolo, sia per la nostra chiesa al proprio interno, anche come sana provocazione, nel senso di ascoltare delle voce alternative, ma anche per gli amici che ci seguono tramite i diversi contatti che abbiamo e questa mattina ho il piacere di salutare all'amico Enzo Pace, sociologo dell'Università di Padova, noto analista non solo dei movimenti religiosi in Italia ma nel mondo e avevo chiesto gentilmente a uno studente, Alan, di andare a prendere la stazione e non mi ricordavo chi era stato anche tante volte in Brasile, certo qualcuno che studia i fenomeni religiosi contemporanei come fa a dimenticare il Brasile, quindi mi ha ricordato che è stato varie volte appunto in Brasile per studiare le nuove forme religiose cristiane e non d'altronde che abbondano in quel grande territorio. Questa mattina presentiamo il libro Introduzione alla sociologia, un testo non solo riassuntivo delle grandi correnti, dei fondatori, delle grandi tematiche, ma anche di messa in prospettiva, soprattutto perché è un testo rielavorato, la prima edizione è del 2007, spero che viene arricchito di alcune sezioni particolari, soprattutto nel primo capitolo e nell'ultimo capitolo dove introduci religione genere, religione secolarizzazione, conversione, non conversione, poi religione globalizzazione, temi che chiaramente sono emersi con forza nell'analisi di qualunque analisi culturale e religiosa. Quindi dialogheremo con Enzo rispetto a alcune tematiche, quindi non sarà un esercizio né esaustivo, vediamo che aria tira e ci orienteremo così un po' improvvisando io con le mie domande e te magari dandoci delle indicazioni per capire anche rispetto al gruppo che avevamo questa mattina, che sono dei pastori protestanti, quindi avventisti in formazioni, del bisogno che non è sempre avvertito come una necessità, quella di mettere in dialogo la fede con la società e con la cultura, perché anche fra coloro che accettano a questo dialogo spesse volte diventa un dialogo subalterno, noi parliamo con la società, ma per dire alla società cosa deve fare, quindi è essenzialmente un non dialogo. Ed è da questo, forse da questa domanda che partirei come una messa in prospettiva, anzi una doppia domanda, può una società, perché tu poni il problema soprattutto nel primo capitolo introduttivo, può una società esistere senza religione? E qui poi noi come credenti ci mettiamo la maglietta e diciamo no, ciascuno al proprio livello, con la propria euforia ed enfasi, per una domanda seria che non era stata forse mai posta in questi termini, perché prima ogni cultura era automaticamente religiosa, invece sospendere la religione dalla società è possibile, ma la forma rovesciata di questa domanda potrebbe essere la seguente, può la religione in qualche modo rivendicare un'autonomia pur relativa dai processi sociali, perché se la religione fosse completamente spiegabile, descrivibile a partire dalla sociologia, dai processi culturali, sociali che la sociologia descrive, non avremmo lì una specie di riduzionismo della religione? E quindi quale rapporto fra religione e società orientativamente è il più bilanciato, il più promettente, mantenendo di fatto che ogni religione è prepotente, anche noi che siamo piccoli, purtroppo c'è una certa prepotenza della religione che vuole essere dipendente da qualunque processo culturale o religioso? Bene, ma la prima riflessione che si può fare attorno a queste domande che sono le domande cruciali che ci si pone non solo nel campo delle scienze sociali, ma anche nel campo teologico se volete è quello tra il rapporto che c'è fra una ricerca di senso e di verità che probabilmente appartiene non solo alla nostra struttura antropologica, ma forse sta dentro il programma genetico che ci portiamo appresso, questo codice che riceviamo e che noi reinterpretiamo, adattiamo e in qualche modo leggiamo nello scorrere del tempo e della storia, questa domanda riguarda un rapporto tra questa ricerca di senso che gli esseri umani hanno cercato di elaborare in varie forme, con vari linguaggi, tra cui penso che la religione sia uno dei grandi linguaggi che l'umanità ha provato a sviluppare per dare appunto significato allo stare nel mondo e al passare della storia nel mondo e nel provare a vedere se questo passare della storia nel mondo abbia una direzione, abbia un valore, abbia una pretesa che non termina nell'immediatezza dell'utile, nell'interesse concreto. L'immagine che spesso uso anche con i miei studenti è che le religioni sono come un compasso, nel senso che possiamo, come il compasso, c'è un fulcro originario, poi il compasso si apre, disegna dei cerchi continui, a seconda della forza del passo, del compasso può essere il cerchio sempre più ampio. Se noi ci riflettiamo, le grandi religioni nascono in un certo momento, in un certo luogo, addirittura noi possiamo anche sapere qualcosa della biografia personale di chi ha annunciato un certo messaggio. Dopodiché questa parola che qualcuno l'ha sentita, quindi una parola viva, ha cominciato a camminare con le sue gambe, come dire, ha attraversato il tempo, i cerchi continuamente che si aprono, il tempo e lo spazio delle culture. Se noi pensiamo tra l'aramaico, che era la lingua di Gesù, e la lingua cinese, l'ideogramma cinese, eppure abbiamo cristiani in Cina. Come è successo in Cina? Questo è un grande miracolo della religione, dico sempre, al di là dei miracoli, ma questo è un grande miracolo, perché vuol dire che questa parola contiene un messaggio potente, cioè che fa cambiare le mappe cognitive della nostra mente e suscita, diciamo una parola forte, una passione per la vita, oppure se volete un linguaggio più neutrale, una quantità di emozioni che ci muovono, che ci fanno andare, che ci fanno agire. Allora questa cosa, per cui le religioni sono fin dalla loro origine, in questo caso facendo ad esempio il cristianesimo, potrei parlare anche dell'ebraismo, lo stesso modo, quando si forma un sistema di credenza attorno a dei libri sacri, che sono poi quelli che della tradizione ebraica sono contenuti nei primi cinque libri della Torah, ma la stessa cosa si potrebbe dire dell'Islam. Ci sono delle religioni in cui non sappiamo chi è quello che si è messo a parlare in nome di una parola vivente, ma certamente anche Buddha è così, anche se parlava poco parlava più il suo corpo, sulle sue posture ascetico-meditative, quindi questo faccio, lo dico perché? Perché le domande che ha posto Hans sono domande classiche di qualsiasi scienza delle religioni, perché il problema è capire che non è possibile studiare le religioni con un pensiero che spacca in due il problema, e cioè dice le religioni è un fatto del passato, sono arcaiche, saranno superate dalla modernità, che era un po' tutta la filosofia positivista da cui nasce la sociologia, perché è una scienza giovane, non è una scienza chissà quanto, come la filosofia nasce nella seconda metà dell'Ottocento in Francia, quindi in un ambiente che era già stato sconvolto dall'evoluzione francese e quindi nasce con questa idea, il progresso, la scienza supererà la religione non è una roba arcaica, finisce. Questo è un modo di spaccare il problema, la religione è il passato, l'avvenire chissà cos'è. In realtà noi abbiamo imparato nel corso della lunga storia che poi si è sviluppata a partire dalle prime riflessioni sessologiche dell'Ottocento, che questo modo di ragionare non permette di capire invece quanto sia complesso questa cosa che chiamiamo religione, perché costruisce una memoria, ma questa memoria non è mai una memoria che è seduta stancamente, che si spegne, no, ma è una memoria che riesce sempre a riprodurre stimoli, a dare nuove visioni, a fare immaginare che è possibile cambiare noi stessi le relazioni fra gli esseri umani e anche immaginare di avere un effetto benefico sull'ordine sociale, sulla società. In questo senso se volete le mie preferenze tra i pari frondatori c'è un personaggio che si chiamava Durkheim, che aveva questa idea che le religioni in qualche modo sono una grande matrice di organizzazione della società, cioè fanno imparare a noi, esseri umani, a stare assieme, questo ridotto in termini molto semplici, quindi è un elemento di conservazione se volete. Io preferisco invece sempre tornare a Max Weber, che questo è un altro grande padre della sociologia, che invece vedeva sempre questo aspetto dinamico, le religioni possono far cambiare la mente, il cuore, quindi anche la società. Quando studia Max Weber questa figura che poi lui un po' tipicizza, che è quella del profeta, con la P minuscola, poi va a studiare Gesù, Mohammed, Gautama, li studia, va a vedere che tipo di figure sono, quello che alla fine risulta chiaro è che gli interessa non tanto la figura in sé, ma è l'interesse, il fatto che queste figure hanno interpretato il cambiamento, l'impulso a cambiare e che il cambiamento nelle società non è solo come una certa vulgata del marxismo ortodosso e passato, non è solo il cambiamento di tipo materiale, l'economia, le tecniche, i processi di organizzazione burocratiche, la società, no, il cambiamento è anche il cambiamento che avviene nella nostra testa e nel nostro cuore. Allora lì le religioni, secondo Max Weber, hanno svolto e svolgono una funzione non di conservazione, ma di mutamento, fanno mutare le cose. Allora in questo senso uno dice, se io metto assieme Durkheim e Weber, debbo mettermi nella prospettiva di pensare che nelle religioni c'è il cambiamento, ma c'è anche la conservazione e che tutte e due possono stare assieme, perché? Perché se noi riflettiamo sulla grande storia del cristianesimo e vi ponete la domanda, ma com'è possibile che da una stessa parola vivente come quella di Gesù, poi si siano prodotte una quantità così differenziata di modelli di ascesi, di mistica, sette, chiese, organizzazioni piccoline, ecclesiole, perché questa pluralità che continua, perché tutta questa nuova forma di cristianesimo entusiasta pone di nuovo il problema, perché? Vuol dire però che al di là di come si giudici, quindi senza fare una valutazione se è bene o se è male, ma valutandolo un pochino, diciamo, un minimo di distanza, uno dice, beh, vuol dire che questa parola è capace non solo di creare grandi strutture che in nome della verità diventano potenti, potenti diciamo forme di potere anche sociale, ma è una parola che desta continuamente la mente e il cuore e quindi può, nel momento in cui ci sono condizioni particolari, produrre cambiamenti, tutta l'epoca del grande risveglio che ha prodotto negli Stati Uniti d'America, poi anche in Europa, appunto l'innovazione, quello che lo chiama l'innovazione religiosa, che vuol dire prendere un messaggio e far scaturire da questo messaggio una nuova idea, non so, di chiesa, di fare comunità, in una società in cui magari anche le chiese della riforma si erano aggiustate, erano diventate chiese organicamente legate a un certo tipo di potere politico, di assetto economico, quindi se il cristianesimo riesce a far questo vuol dire che se io lo studio come sociologo o come antropologo, devo pormi il problema se devo liberarmi dalla categoria per cui la religione in questo caso cristiana è conservazione o è liberazione per proposito, ma è probabilmente tutte e due le cose, noi dobbiamo ragionare adottando il paradigma della complessità, la religione è un fenomeno complesso, ma non nel senso di complicato, complesso perché può contenere aspetti di variabilità e di permanenza, il messaggio, la parola di Gesù probabilmente permane, non arriva mai a essere stravolta, ma cambia, perché quel cerchio si è aperto e ha intercettato altre esigenze e ha fatto parlare alle persone cercando le parole giuste per tenere viva quella parola che è stata ricevuta nella catena di trasmissione della memoria di Gesù, così com'è nell'Islam, se noi guardate questo mondo musulmano, anche lì c'è una pluralità di forme, di movimenti, di teologie. Quindi anche lì tu dici è più complesso di quanto sembra perché noi tenderemo a identificare l'Islam con una chiusura, invece anche lì ci sono degli elementi di innovazione. Però ecco, grazie per questa risposta a questo commento, che ti inserisci tra i sociologi con un sguardo benebolo e complesso di fronte al fenomeno religioso, ci sono stati dei sociologi più negativi, quindi ti inserisci nell'ottica di Tocqueville, di Max Weber, di Trelsch, che mi ha insegnato molto, per chi non lo conosce è stato amico di Max Weber, tedesco come Max Weber, però rispetto a Max Weber era anche un teologo luterano, quindi come dire aveva le mani in pasta, Max Weber si capiva benissimo cos'è la teologia protestante, il suo libro Etica protestante e lo spirito del capitalismo è spesso pagine e pagine di analisi di alcuni testi di teologia, del puritanesimo. Però la domanda che a me verrebbe da porti, perché tu hai colto degli esempi di religioni come Max Weber fa di fronte al protestantesimo, di religioni che fungono da elementi di trasformazione, però ci sono anche delle religioni o una parte in tutte le religioni funge da ostacolo al progresso, all'innovazione e quindi la sociologia non deve perdere questa dimensione critica appunto per smascherare questo e io per esempio trovo che uno degli effetti collaterali del dinamismo di molte religioni, prendiamo il caso del protestantesimo, crea un effetto collaterale che è quello che appunto Durkheim prova a descrivere che è la diminuzione del legame e dell'appartenenza, è quasi quasi che Durkheim suggerisce che più dinamica una chiesa o un gruppo paradossalmente meno la sua forza di legame, adesso io non voglio dire che Durkheim assimilava l'aumento dei tasso dei suicidi in modo meccanico in territori protestanti, però in fondo lo suggeriva, lì dove la religione è più individualista, più razionale, più dinamica, purtroppo constatiamo questa perdita di legame. Sì, questo diciamo come si può leggere questo fenomeno descritto adesso da Hans, ma io penso che bisogna anche qui provare a capire come, come dire, le religioni possono essere considerate come dei sistemi viventi, sistemi viventi, noi abbiamo nel linguaggio della biologia anche la cellula è un sistema vivente che funziona scambiando con il suo ambiente, che è molto 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 più complicato, molto più pericoloso, perché sono i batteri, i virus che entrano, è un qualcosa, un essere vivente che impara a difendersi, ma anche impara probabilmente a trasferire questa pericolosità esterna in un modo proprio per organizzarsi e per essere sempre più in grado di difendersi, quando questo non avviene ci ammaliamo e così la cellula si ammala e comincia a far danni. Ecco, anche le religioni sono un sistema vivente che devono appunto vivere dove? Nel cuore delle persone, certo, nella mente delle persone, nella relazione fra le persone, ma vivono poi anche come delle organizzazioni, un essere vivente, un sistema vivente organizzato, le religioni sono queste, quando parliamo di chiesa, se no di cosa stiamo parlando, parliamo di una forma organizzata che rende possibile dare continuità a che cosa? A una credenza, a delle forme spirituali, la preghiera e la cosa fondamentale è quello di cui parlavi tu adesso, che Dirkheim sottolinea, al rito, una religione senza rito non è una religione che riesca a vivere, tant'è che le forme di individualismo religioso contemporanei, cioè in cui ognuno si fa la propria religione, qualche volta sono religioni che non hanno più il connotato di essere religiose, scusate il gioco di parole, perché manca questo aspetto del rito, se io posso farmi la mia religione, magari mi metto davanti al computer, so che c'è un sito che mi offre pagamento con la carta di credito, una meditazione online, che possa essere lo zen, posso scegliere oggi, dico ma mi piace questo, faccio 20 minuti, 10 minuti di meditazione zen online, oppure mi collego, perché ci sono anche questi, dei monasteri di monache in America, cattolichi in America o in Inghilterra, che offrono meditazione online, con dei problemi con i loro vescovi, perché dicono cosa state facendo, voi dovete fare le preghiere in comunità, non fare le preghiere online, allora in questo caso cos'è che vi manca? Siete voi il rito, ma è un rito molto svuotato, perché il rito per definizione, come ci ha insegnato Durkheim, è un'esperienza comunitaria, perché? Perché questa è la grande intuizione di Durkheim che resta ancora valida, cioè le religioni riescono a far comunicare alle persone con un codice che è scritto con una lingua che non si ferma a la descrizione della realtà in cui vivo, ma cerca di questa lingua, è scritta in modo tale che io veda oltre il limite, ciò che è determinato, ciò che è puro utile, al di là dell'utile, dell'interesse, io vedo qualcosa di più e il rito è questo modo di comunicarci che c'è qualcosa in più, che noi dobbiamo guardare oltre, ecco, l'idea appunto, un'altra immagine che uso è le religioni, sapete le falesie che strapiombano su il mare, su un'oceano, se voi siete sulla parte superiore e non avete vertigi cercate di affacciarvi, però la parete non la vedete, per vedere la parete dovete andare a largo e allora lì scoprirete che questa parete non è uniforme, è fatta di tanti strati e se poi tornate sull'altura della parete e guardate avanti, vedete quello che noi diciamo l'orizzonte, cioè il non finito, e se guardate in giù vedete qualcosa che anche lì è il profondo, le religioni sono questo, sono questo linguaggio che permette agli esseri umani di guardare il non finito, di immaginare il non finito, di credere che ci sia un non finito e il profondo al di là della superficie dell'acqua. Se così è, se la religione è così, cioè questo far parlare gli esseri umani, farli comunicare su questi grandi temi, dov'è che si comunica? Si comunica spesso nel rito, quando appunto nelle religioni si fa memoria o di parole dette o di gesti fatti e quindi questo interiorizzare gesti e memoria permette poi di accumulare dentro di sé una convinzione che appunto la società non finisce laddove finiscono gli interessi materiali, ma è qualcosa in più, questo qualcosa in più lo si sperimenta nel rito, quando è che si indebolisce l'appartenenza a una chiesa, a una comunità? Quando appunto si scomincia a dire ma mi annoia, si ripetono sempre le stesse cose, quello fa un sermone che proprio se posso lo evito, cioè quando tu entra tutto un po' burocratizzato, che è uno dei problemi gravissimi con le nuove generazioni, che spesso hanno molte chiese. Quindi vi raccomando, di fronte a un culto non scegliete mai alla carta, anche se non vi piace rimanete seduti, però a parte poi la battuta, questo è un problema serio, perché è un problema serio? Perché non è giustamente la religione moderna tendenzialmente antirritualistica, già lo diceva per esempio Robert Della quando analizza il periodo assiale, dice già nel periodo assiale, quindi i profeti, anche i filosofi, anche Buddha, non è caratterizzata, dice lui, in tempi che ancora erano incantati, dice non è questo periodo assiale comune a tante religioni caratterizzato da un superamento del mito verso una religione più razionale e da un superamento del rito nella etica, poi certo se compariamo quel periodo assiale del quarto secolo prima di Cristo con oggi, questo ancora di più, i protestanti non siamo innocenti perché noi abbiamo una tendenza iconoclastica, antirrituale, che abbiamo criticato pesantemente nel cattolicessimo, a che cosa servono tutte quelle cose, tu non comprendi, come fai a battezzarti se non lo scegli, siamo molto antirritualistici, però ci torna contro questo, perché alla fin fine diventiamo facilmente una religione del megachurch, quasi una cosa che vendi, non c'è da stupirsi, questo nella grandezza, certo del protestantesimo, c'è questo dinamismo che Weber ha ben compreso, però si nasconde questa anomalia che tende a scaldare il rituale come una roba superata, come vediamo questo? Sì, sì, beh, questo giustamente richiamavi Max Weber, non è un libro di facilissima lettura, però è un libro che non ha tante pagine, non è un tomo mostruoso, no, è un libro che si può leggere, soprattutto voi che avete un po' l'orecchio per la teologia protestante, che è appunto il libro L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, dove come dire mette assieme il diavolo e l'acqua santa apparentemente, no? Allora la cosa importante di quel libro è che dopo aver cercato di spiegare perché, come, in che senso, c'è una qualche affinità fra una certa idea etico-religiosa che deriva dalla teologia calvinista, che diventa appunto un abito interiore del primo imprenditore capitalista, che non esiste più, forse, forse non esiste più, cioè quello che lui incontra in America e che vede in carne e ossa, in cui la sobrietà, il puritanesimo è la regola di vita, non è il capitalista spendacione che se la gode, che sperpera i suoi guadagni, no? Che fa ostentazione della ricchezza, è un capitalista molto sobrio. Allora questa figura lo affascina e l'idea sua molto semplice, molto discussa, non si può discutere, che in qualche modo ci sia non una determinazione, cioè che l'etica calvinista abbia determinato questo modo di fare gli affari, di fare gli investimenti, di fare l'imprenditore, ma c'è una qualche, diciamo, come dire, un terreno fertile, spirituale, su cui probabilmente la nuova attività economica di tipo capitalistica è stata apprezzata da persone di fede, che hanno visto nel profitto il segno di quello che poteva essere la speranza di essere salvato nella visione calvinista della predestinazione. e nelle ultime pagine Max Weber dice chiaramente, e questo lo dice, siamo nel 1904-1905, quindi dice noi ci siamo, è come se ci fossimo messi un mantello addosso, cioè ci fossimo, questo mantello è il capitalismo, pensando che siccome siamo cristiani questo mantello si diventerà soffocante, ce lo togliamo, e invece no, questo mantello è diventato una gabbia d'acciaio, cioè il capitalismo, come dire, ha succhiato questa linfa anche vitale dal protestantesimo e poi è diventata una roba autonoma che funziona secondo una sua logica per cui diventa, dirà più avanti, qualche anno dopo, un altro grande intellettuale tedesco, un filosofo, Walter Benjamin, che il cristianesimo appunto non solo ha dato sangue al capitalismo, ma il capitalismo ha usato il cristianesimo come appunto un istituto sanitario a cui ha sempre ricorso per riparare i guasti del mercato, questa quindi, in questa immagine sta l'idea appunto che avendo questo tipo di formazione economica esaltato i talenti individuali dell'imprenditore, ha potuto apparire in alcuni casi ad alcune correnti teologiche protestanti come in fondo una forma di secolarizzazione dolce del cristianesimo, cioè come se il cristianesimo si fosse incarnato in questa forma economica e che quindi bandava questa forma economica battezzata e quindi voi avete in certi ambienti teologici protestanti l'idea che comunque, insomma, se uno ha successo economico, se è un buon imprenditore questo è anche un segno di bontà divina, insomma, che arriva poi in tutta quella cosiddetta teologia della prosperità che invece è una teologia di mercato, quello che c'è in cui io ti vendo è più sfacciato lì la cosa lì ti rivendo, se tu ti converti e mi offri la decima ogni volta che vieni in chiesa vedrai che il tuo conto in banca lunedì cresce, è miracolo, siamo proprio lì alla smaccata vendita di un prodotto, ma quindi in questo senso Max Weber ha previsto una delle derive possibili, però al stesso tempo noi sappiamo che anche dentro le grandi correnti del protestantesimo ci sono state spinte invece di critica, spinte a elaborare una visione di un'alternativa, non accomodante e così via, come nel cattolicesimo con le teologie della liberazione e così via. Quindi c'è questo anche di nuovo quello che perlomeno sono un vecchietto, insomma ho imparato invecchiando a non accettare più una visione, dico una parola difficile, dicotomica, cioè che metta una cosa contro l'altra e la realtà delle religioni è una realtà complessa, complessa vuol dire che una religione non vive fuori del tempo non vive fuori del tempo, non vive fuori del tempo, ma interagisce continuamente con società diverse, diversissime e quindi un po' si adatta e adattandosi paga pegno, cioè accetta certe cose. Tipo che se gli apostoli risuscitassero e noi ci chiamiamo al loro nome, loro ci guarderebbero e dicono che questa roba non è nostra, perché quindi non solo la religione sussiste, questa è la grandiosità, però è anche vero che sussiste trasformandosi, per forza la società spinge una trasformazione e ciò che poi Charles Taylor chiamerà le nuove condizioni della credenza nell'ultimo capitolo del suo testo. Quello sì, quello è un bel libro. È un bel libro impegnativo, però che vale la pena leggere, però per mettere un po' di peppe alla discussione Enzo menziona anche la sorella White, non la chiamiamo sorella White, perché facendo appunto descrizione di come la religione non sia un fenomeno puramente spirituale, ma che è interracciato con processi culturali, economici. Tu citi l'esperienza di Kellow, e quindi ci ricordi che Kellow non era solo un credente avventista, ma in realtà un imprenditore. Fratello. Il fratello, sì, sì, che poi li ruba la marca. Sì, sì. La marca, ecco. Intanto però, tanto siamo in un dialogo amichevole, c'è una cosa imprecisa qua, che magari poi quando tu dici i Kellow erano fratelli che avevano aderito alla Chiesa dei Santi di ultimi giorni, no? Questo mi sembra che non è preciso, e poi quando tu dici altrimenti conosciuta come Chiesa avventista, questo è chiaramente da corretti, perché noi non avevamo nulla a che fare con, non perché siano semplicemente il riferimento... Sì, è l'avventismo, diciamo. L'avventismo, che ci sia, è stato nei mormoni una corrente certo messianica, quello sì, però non con la Chiesa avventista, no? Però ciò che tu metti in evidenza in fondo qua è il fatto evidente che non c'è nessuna religione o avventista o altro che possa fare a meno dei processi anche economici. Questo rapporto è chiaro più sfacciato in alcune religioni dove tu giustamente dici dove in modo evidente si vende e si... per un rapporto del quale poi nessuna Chiesa può fare a meno. No, no, ma lì il caso Kellogg mi ha sempre incuriosito perché è proprio l'aspetto interessante soprattutto nell'igienista, nel medico, diciamo, quello di dire, va bene, proviamo effettivamente a tradurre un messaggio, in questo caso profetico, di White, no? Che bisogna essere puri, no? Proviamo a tradurlo in una ricetta di vita quotidiana. Perché le religioni, appunto, sappiamo benissimo dalla tradizione ebraio-cristiana, ma anche poi nell'Islam, in altri, in altri, nell'induismo e così, sono anche sistemi di norme che tu mangi anche quando mangi. Quando ti nutri, cioè questo elemento vitale del nutrimento, le religioni cercano di disciplinarlo e di dargli un significato. Quindi non devi solo pensare che è buono, che mi riempio la pancia o mi dà gusto al palato. No, ma c'è un significato, quello che dicevo prima, c'è un significato che va oltre l'elemento immediato. Allora, quell'esperienza lì è interessante perché, va bene, inventa questo breakfast alternativo. Quindi, in questo caso, è un esempio che facevamo anche prima. In questo caso, una religione cambia la tua testa e il tuo cuore, ti fa mangiare una cosa diversa. E, però, come al solito, queste invenzioni possono anche poi, come dice Max Weber, possono essere un mantello leggero, ma poi diventano qualcosa di diverso, cioè sfuggono alla logica di una religione, entrano in una logica di mercato. Ed è quello che fa il fratello un po'. Certo. Lui che approfitta il marco religioso. Capisce, capisce che quello è un grande business, no? Se voi guardate la storia di questa grande azienda, perché è una grande azienda multinazionale, adesso c'è un'ultima, ho visto che si è fatto un accordo con la Ferrero, quindi ancora più, che già la Ferrero è una multinazionale per conto proprio. Quindi, però, come vedete, non c'entra più un'altra storia, in questo senso. Però è interessante questo nesso per cui le religioni sono anche organizzazioni, lo ripeto spesso, sono anche organizzazioni, e non è una parolaccia applicare la religione. Cioè io posso studiare una religione, non solo andare a vedere appunto le correnti spirituali, la ritualità, le teologie che sono in modo tra cui una religione riflette su se stessa, ma vado a vedere anche come si è organizzato. Perché se io guardo, per esempio, tutta la discussione che ha attraversato, fino anche negli ultimi tempi, le assemblee di Dio, cioè che modello organizzativo usiamo, è il fatto che non si chiami, non vogliono, qualcuno non vogliono addirittura sentire parlare di chiesa, è perché appunto per loro la chiesa è tutta negativa, cioè è una burocrazia che soffoca lo spirito. Per cui al massimo questo modello congregazionalista, però che non dovrebbe teoricamente, come dicevano alcuni, diciamo, teologi, pensatori della prima ora, però una congregazione molto leggera, senza troppe gerarchie. Quindi vuol dire che anche le religioni ti fanno pensare a che cosa? Da questo fatto umano, cioè se io devo essere fedele a una parola, e ho una credenza, e se devo dare continuità nel passaggio delle generazioni, devo pure affidarmi a una qualche struttura organizzata. Quindi non è un fatto... Non si può fare a meno, certo. Non se ne può fare a meno, così come non si può fare a meno, evidentemente sia un'organizzazione o il problema di come mantenerla, quali sono le risorse finanziarie, quali sono le risorse umane da impiegate per l'organizzazione. Per cui si creano, ovviamente, come tutte le organizzazioni complesse, quando più sono complesse si formano oligarchie, oppure si formano una divisione del lavoro tale per cui quelli, sì, va bene, tirano la carretta e gli altri, va bene. Si creano questi processi che sono processi normali, diciamo, nello studio di tutte le organizzazioni complesse. Ecco, e allora, se uno ha questa prospettiva, può non ridurre un fenomeno solo a una dimensione. La religione è un fenomeno multidimensionale. Perché lì le religioni si confrontano con due estreme, in realtà. Quando, per esempio, l'organizzazione diventa così forte, così puntata al guadagno, la spiritualità scompare. Però se non ci fosse questa organizzazione, ecco, saremmo nella giungla e nell'ambivalenza, non ci sarebbe trasparenza, e quindi è un qualcosa di legittimo, ma va mantenuta sotto occhio, diciamo così. Sì, insomma, per esempio, questo è uno dei paradossi che, apparentemente, in sociologia della religione ci si pone quando si studiano i paesi scandinavi. Dove hai, dalle indagini che facciamo, se si fanno, insomma, con questionari, tu hai una popolazione che ti dice lei frequenta il servizio religioso una volta alla settimana 5-6%, però poi ti chiedi, ma lei da un punto di vista religioso come si definisce? Allora lo dice, luterano 80%, che è la stessa cosa che anche se messi a confronto, il caso italiano è interessante, stessa cosa che voi vedete nelle grandi indagini sull'Italia, vedete che il dato sulla pratica religiosa, cioè la frequenza della messa domenicale, continua a scendere, siamo ormai al 21-22% alla domenica della popolazione, era il 50-60% negli anni 50, e si mantiene sempre elevato anche se sta scendendo, chi risponde, sì, sono cattolico, vuol dire che uno lo può leggere in vario modo, quelli che dicono questo è un fenomeno legato alla secolarizzazione, sì, è anche vero, è anche vero, cioè il fatto che uno non creda più, allora anche lì, cosa vuol dire non credere più? e invece noi scopriamo facendo delle indagini qualitative che non è che scompaia il bisogno di religione oppure che uno vada a cercarsi di soddisfare questo bisogno altrove, per cui culturalmente sono cattolico ma di fatto ho un mio modo di accedere alla religione, non più attraverso la chiesa cattolica, cioè l'organizzazione cattolica, questo è l'aspetto per cui anche nei paesi scandinavi non è che la religione sia sparita, perché come dice con il 5% le cose invece vanno in questa direzione spesso in alcuni paesi come la Francia, dove in effetti il calo è talmente drastico per cui la gente effettivamente della religione sembra non farne più uso, non avere più bisogno, ci sono alcuni casi però sono rari, la maggioranza dei casi vanno in un'altra direzione, vanno in forme di religiosità moderne, più individualizzate e probabilmente sul caso dei paesi scandinavi. Alternative, sì sì sì. Tanto per, prima di dialogare un attimino con i ragazzi, un dato anedotico, parlavamo di Chello della White, lo sai che questa strada che si chiamava Viuzzo del Pergolino, oggi si chiama Ellen G. White, io non l'avrei messo perché non vado molto Ma da quando? Beh da sei mesi, il comune ha detto In omaggio di Quindi questo come un dato sociologico Che vuol dire però che come dire questo paese sta cambiando, però è un po' un cambiamento di atteggiamento. Sì sì, un'ultima domanda poi passiamo al dialogo e nel capitolo terzo del tuo libro tu fai il distinguo fra sacro, religione e religiosità. Ecco, la sociologia essendo una disciplina quindi moderna come fa a studiare il sacro? Come fa a studiare la religione? È un po' meglio già ma comunque e quindi si concentra tu dici sulla religiosità perché la religiosità offre dei criteri più oggettivi e quindi la sociologia in fondo è una disciplina che misura quindi oggettivamente almeno prova a misurare quindi in questo c'è una grandezza perché ciò che rimane un po' eterio invece lo porta ai numeri alla concreteria dei numeri con un grande beneficio di letture e tutto però allo stesso tempo ecco c'è il rischio di riduzionismo in quanto può una religione essere ridotta al numero alle quantità e statistiche questo lo diciamo ormai molti lo siamo consapevoli cioè che questa analisi che poi è un'analisi statistica con dei pacchetti statistici matematico statistici come dire che riducono i comportamenti perché i comportamenti gli atteggiamenti che noi calcoliamo sulla base di ciò che le persone ci dicono nelle interviste quindi il problema è quello che una persona mi sta raccontando mettendo le freccette sulle risposte perché poi sono i questionari usiamo i questionari se no tu non puoi arrivare a dei campioni di migliaia di persone a dei pacchetti statistici che ti elabbrano ti fanno gli diagrammi a torte non puoi farlo se non hai questa riduzione già questa è una riduzione tu dici quante volte vai al servizio al mese una, due, tre volte vabbè uno potrebbe dire ma perché devo rispondere così in modo fisso non posso rispondere dicendo ci vado perché ho sento questo bisogno no devi rispondere a quello e già quello ti costringe a canalizzare le tue opinioni ma a parte questo noi arriviamo a dire oggi siamo su questo siamo d'accordo l'ultima inchiesta che è stata fatta sulla religiosità in Italia D'Agarelli e Cipriani registra al loro interno questo dibattito tant'è che ci sono due libri diversi sulla stessa ricerca e cioè che una volta che tu hai fatto le statistiche misurando questa è la pretesa misurando dei comportamenti osservabili anche sulla base di ciò che ti dice una persona ti rendi conto che appunto quello che hai alla fine raccolto sono dei dati che ti dicono entro certi limiti quali sono le grandi tendenze i grandi processi e quindi tu hai bisogno quando fai queste cose di avere possibilmente dei confronti nel tempo anche se metodologicamente adesso apri una parentesi un po' pedante ma metodologicamente tu dovresti fare la stessa domanda o le stesse domande a un stesso gruppo di persone osservandole nel tempo ma non lo si può fare perché ha dei costi enormi quindi tu hai spesso gruppi di persone diversi che hai intervistato non sono negli anni 70 negli anni 90 e poi provi a fare dei confronti facendo molta attenzione perché non sono confronti legittimi statisticamente fino in fondo ma a parte questo si dice noi arriviamo a cogliere una superficie della realtà osservata cioè le opinioni di chi risponde alle domande del questionario ma noi non sappiamo effettivamente questa persona come vive il rapporto con la sua fede da qui l'idea di integrare queste ricerche con quelle che vengono chiamate indagini qualitative cioè con dei gruppi che vengono lasciate libri di parlare cioè di raccontare la loro esperienza vissuta e ovviamente senza qual è il limite che non puoi generalizzare però puoi tirare fuori degli elementi interessanti per esempio tutta la parte sulla religiosità giovanile che oggi in Italia è difficile da misurare con le vecchie categorie perché hai una quantità di problemi di linguaggio se tu chiedi a una persona lei crede in Gesù Cristo risorto c'è una fascia di popolazione giovanile che su questa questa formula non sa cosa dire non la capisce ma non ha più neanche le parole per dire sì o no allora tu dici che sono diventati atei oppure invece c'è qualcos'altro allora devi prendere queste persone e cercare di ascoltare e farti un'idea di qual è il loro linguaggio per entrare nella sfera religiosa diciamo questo elemento dell'indagine qualitativa appunto è uno strumento per andare al di là della superficie può aiutare d'altronde questo bisogno di leggere non è solo dei sociologi ma anche dei genitori perché di fronte a dei figli che non frequentano c'è la mamma che dice non credono più e c'è magari il padre che dice guarda che ancora credono e quindi non si riesce a capire bene perché noi adulti pensiamo appunto che credere o non credere sia nettamente separato e invece nelle nuove generazioni la mia impressione è che si possa uscire entrare e quindi che è appunto un problemino non piccolo però va capito non so se avete conoscete lo dicevo Alan venendo qui c'è un libretto di Spong lo conosci il vescovo episcopaliano che si chiama il libretto che è stato tradotto da pubblicato da Mimesis si chiama Incredibili che comincia appunto raccontando la storia di questo mai vescovo in pensione che cerca di parlare di religione con sua figlia e sua figlia dice papà queste cose che mi stai dicendo non mi arrivo non riesco a capire di cosa parli e conclude il libretto è tutto così un po' radicale anche in alcune sue scelte dicendo bisogna che cambiamo il linguaggio quindi se i giovani apparentemente non credono è perché forse il nostro linguaggio non riesce più a come dire entrare nel loro linguaggio trovare le parole nuove giuste per parlare di religione questa è una grande sfida e lui appunto rimangono fuori del nostro radar quindi stiamo presentando il libro di Enzo Paci introduzione alla sociologia delle religioni nella nuova edizione apparsa da Carocci anche come la prima insomma era sempre Carocci e quindi questo è il 2021 allora io direi apriamo anche se siamo pochi un momento di dialogo di domande siamo qui per imparare quindi se ci sono delle domande sia del percorso storico che è stato brevemente delineato o di alcune categorie e questo è il momento da approfittare per chi vorrebbe eventualmente mentre si prepara qualcuno io posso magari farti una domanda hai menzionato Troll, Cervever questa divisione delle configurazioni religiose nella famosa nel famoso binomio setta chiesa e poi che Troll ci aggiunge spiritualità spiritualismus ecco quanto quanto valida ancora sia oggi e quanto superata oggi sì ma se ci spieghi cosa intendeva per setta e chiesa allora lì bisogna considerare come dire il metodo che usavano questi due sociologi cioè quello di dire mi costruiscono nella mia testa delle categorie che mi permettono di classificare dei fenomeni che altrimenti non riesco a capire il problema è capire a partire da quella domanda che che vi ho fatto balenare in una battuta che adesso vi ripeto che era un po' anche il rovello del teologo Trelci in questo caso Weber non aveva grandi diciamo sensibilità religiose anche se ha detto delle cose fondamentali sulla religione ma Trelci era un teologo quindi era dentro alla questione della modernità e cioè come spiegare questa parola di verità di Gesù che poi si incarna in una quantità così variegata di forme organizzative e allora quindi chiesa setta e Trelci usa la terza categoria il terzo tipo misticismo potremmo dire ma è un po' più complicato sono tre forme che io ho inventato per classificare la realtà la realtà è molto più complessa perché ma perché se io guardo la storia del cattolicesimo diceva Trelci cosa succede che nella chiesa la grande chiesa cattolica sono sorti i movimenti di protesta che sono diventati tipo setta la chiesa se poteva questi movimenti cercava di riportarli all'ordine trasformando questi movimenti di protesta in ordini religiosi Francesco D'Assisi non è certo un uomo che all'inizio potesse essere classificato come dire un credente tranquillo aveva dentro una carica critica nei confronti di come era la chiesa del tempo elevatissima e e quindi non aveva nessuna intenzione di fondare un ordine religioso ma di fare un'esperienza di vita assieme a un gruppo di altri amici di esperienza di vita per far vedere cos'era per lui il Vangelo è un'esperienza di vita invece cosa diventa il francescanesimo cioè diventa un ordine religioso Très usa una parola molto complicata in italiano dal tedesco ecclesificazione cioè trasformare un movimento in un pezzetto di organizzazione ecclesiastica della chiesa allora quindi la setta può nascere dentro la chiesa una chiesa e quindi può essere espulsa e quindi fare la sua storia oppure può essere assorbita così come dentro le grandi chiese cristiane si sono formate attorno a delle figure di mistici come di maestri spirituali si sono formati cerchi spontanei di discepoli che alla morte del maestro hanno continuato il suo insegnamento e che sono diventate delle piccole chiese nella chiesa insomma allora questa idea quindi non è che queste tre caselle le riempio e sono fisse nella realtà sono molto più mobili e si può dire che non c'è chiesa che non abbia conosciuto il problema della parola setta vuol dire qualcuno che si separa da una comunità a cui apparteneva e il problema qual è la differenza di fondo lo psorologico è che una chiesa ci nasci teoricamente la setta proprio per il suo principio per cui io mi separo perché non sono più d'accordo con il modo con cui voi interpretate il Vangelo diventa un la setta diventa la delizione alla setta è un fatto di scelta individuale scelgo di separarmi questo è il principio organizzativo per cui siccome allora la chiesa ha sempre l'immagine di essere per tutti la setta nel momento in cui è qualcosa che si stacca in conflitto con la grande organizzazione di appartenenza tende qualche volta all'inizio a presentarsi come un gruppo di eletti per pochi perché richiede la scelta convinta dopodiché come ci ha insegnato Nibur teologo luterano dopodiché le generazioni passano e quindi se magari uno ha iniziato con l'esperienza di setta cioè non è una parolaccia l'ho sempre spiegato ai cattolici guardate che non è una parolaccia in sociologia la setta è un modello di organizzazione che presuppone il fatto che ci siano dei credenti che dicono io non sono più d'accordo con il modo con cui voi intendete il Vangelo mi metto per conto mio mi separo e quindi all'inizio c'è l'idea di essere il gruppo dei Santi eletti la comunità dei Santi che dice io sto interpretando il Vangelo in modo nuovo e autentico ecco dopodiché questa questa forma del misticismo dello spiritualismus che non è di Weber Weber parla sempre di chiesa e setta c'è un terzo elemento che mi sono dimenticato che la chiesa secondo Weber e anche Trelsch proprio perché ha questa vocazione universale tende un po' anche a trovare il modo per adattarsi alle società in cui vive per meglio penetrare in essa per meglio diventare una chiesa società cioè una chiesa che rappresenta un intero popolo un'intera società lo vediamo oggi drammaticamente nella guerra in corso dove appunto impariamo per chi non la conosceva impariamo a capire cos'è una chiesa ortodossa che appunto pretende di essere la chiesa del popolo russo del popolo ucraino cioè di rappresentare la totalità di una società anche se la società non è così non è tutta ortodossa ci possono essere ortodossi critici ortodossi un po' tiepidi non più ortodossi praticanti insomma come dappertutto quindi questa idea della chiesa che si compromette con il mondo come dice Trelse che è un'idea interessante perché può far capire anche fin dove ci si può spingere nel compromesso cioè diventare chiesa potere alleata col potere politico subalterna o addirittura subalterna della politica o addirittura usare la politica per fare un controllo egemonico sulla società dal punto di vista spirituale e religioso questo terzo tipo lo spiritualismus possiamo tradurlo in misticismo secondo Trelse è una corrente che attraversa tutta la storia del cristianesimo che si ripresenta dappertutto è come dire è una è una è una corrente carsica che riaffiora inaspettatamente in tutte le forme dalle sette alle chiese cioè sarebbe quindi un terzo tipo che in realtà sta dentro a tutte le altre due forme e che può diventare autonoma in certe circostanze storiche per cui per esempio qualcuno ha detto ma allora questa terza forma di cui parla Trelse potrebbe benissimo adattarsi a tutte queste forme di individualismo religioso moderno quando ovviamente non è più così solo consumistico ma va verso forme di ascesi e mistica individualizzata magari avendo anche un maestro ma si nutre individualmente di una esperienza religiosa lui diceva questa potrebbe essere lo dice nell'ultima pagine delle dottrine sociali delle chiese dei gruppi cristiani lo dice un po' anche lui profeticamente questa potrebbe essere una forma che si adatta flessibilmente molto meglio delle altre due chiese setta alla modernità cioè all'individualismo moderno che in effetti anche lui ci ha azzeccato un po' ci ha azzeccato è una corrispondenza sì quindi grazie per vediamo se c'è qualche un ultimo intento di provocare al gruppo c'è qualcuno che vuole fare una domanda condividere un pensiero magari che è subentrato nella presentazione prego e poi della legge dei movimenti chiaramente o muore il movimento di sostituzionalità come abbiamo anche ricordato e però la domanda che ci facciamo a questo punto come noi della Chiesa di Dicca nella sostitiva di futuro ecco come fare in modo che la Chiesa riprenda il sostituito di Tau e ricordo diciamo la sostitiva di un professore che parla lo diceva il futuro sta nei movimenti nella ricostituzione dei movimenti che possono digitalizzare le instituzioni volevo magari sì questo guardi questo è un elemento che mi ha sempre colpito soprattutto guardando e paragonando cristianesimo con l'ebraismo perché per ragioni storiche ovviamente quindi non intrinseca alla religione ma l'ebraismo per ragioni storiche avendo dovuto disperdersi la diaspora ha enfatizzato moltissimo questo dispositivo che ha permesso agli ebrei anche di sopravvivere fisicamente della memoria e quindi coltivare la memoria vuol dire anche magari in forma anche dialettica nelle yeshiva attraverso la discussione ma è comunque sempre sul testo che si va a trovare la certezza della propria fede nel cristianesimo nel momento in cui il cristianesimo si presenta fin dall'inizio plurale molto di più che sia stato l'ebraismo plurale perché i suoi testi fondativi sono perlomeno quattro perlomeno quattro poi ci sono tutti il resto e quindi voglio dire fin dall'inizio probabilmente nel cristianesimo si capisce la specificità cioè il fatto che questa è una religione che fa memoria di una parola viva e ne fa memoria in modo tale che si capisca che ci siano stati vari modi di farne memoria e questa probabilmente è la sua vitalità la sua forza vitale perché il cristianesimo ha potuto in questa maniera probabilmente essere chiesa setta e spiritualismo allora se è così se è così se la sua cifra è una parola che non ti invita a sederti che non ti invita essere soddisfatto di un'organizzazione che hai raggiunto del fatto che tu hai un'istituzione ormai quella è la verità no ma che questa spinta secondo me c'è nel cristianesimo il problema è vedere come si fa metodologicamente secondo me la cosa più che noi abbiamo imparato al di là adesso delle scene sociali è che dobbiamo affidarci a chi è capace di rendere fresca la parola di dare la parola quella trasparenza che ha come forza di senso e quindi bisogna bilanciare quindi una buona cultura dei testi capire capire con il linguaggio nostro moderno non più con quello di Eusebio di Cesarea o di del vescovo Ireneo di Antiochia capire con il nostro linguaggio e ridare a quella parola che è l'esercizio più difficile che come dire riguarda tutte le chiese quelle un po' tutte le esperienze anche comunitarie di fede cristiana che hanno alle spalle lunga storia se lei entra oggi magari una di queste nuove chiese mega chiese non c'è più ovviamente l'altare c'è il palcoscenico c'è il leggio ma qualche volta mi sono sforzato di vedere cosa c'è sul leggio se era la Bibbia o se era qualcos'altro oppure se era un finto libro di quelli che si mettono degli allora il problema proprio sta lì perché allora se così se abbiamo speranza diciamo nel rinnovamento questo tornare ai testi nutrirsi dei testi capirli ma capirli con il nostro linguaggio non fossilizzarsi e soprattutto evitare questa eresia questa sì adesso lo dico in termini questa eresia moderna che è il fondamentalismo che mi scorpora mi scorpora una parola ma la riduce in slogan che diventa uno slogan politico perché poi questo la deriva del fondamentalismo la sua tragedia rispetto alla sedietà magari dei primi fondamentalisti dell'inizio del novecento del convegno della Niagara Falls che erano evidentemente animati da altri 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 intenti insomma questo è un pericolo reale grazie allora io e Mattia prego prego così concludiamo ringrazio per la sua esposizione e volevo fare una domanda specifica ovviamente in Vittore che è che può essere secondo lei dalle mecanalisi antropologiche qual è la relazione che si può intravedere ovunque dalle analisi base dai risultati ottenuti tra la religione e diciamo i classici archetipi culturali che possono essere Dio la morte l'individuo e il quarto che non me lo ricordo e il tempo secondo lei che interazione c'è dalle analisi volte parte sì la parola Dio è quella più complicata le altre sono più più diciamo abbordabili nel senso che nelle scienze sociali antropologia sociologia psicologia oggi c'è una nuova anche nuova non è nuova però aiuta molto anche il campo delle scienze la semiotica e poi tutto il campo delle delle teorie della comunicazione quindi è molto più ampio allora lì la 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 relazione fra il modo con cui si interpreta il tempo attraverso una visione religiosa spiega molte cose spiega molte cose forse c'è la registrazione ancora c'è una bellissima trasmissione simile a questa che hai fatto intervistando la Stimilli su Taubes Jacopo Taubes non avete mai letto Jacopo Taubes leggetelo perché è interessantissimo proprio per capire come un certo tipo di cristianesimo abbia portato fino alle estreme conseguenze l'idea di interpretare il senso del tempo che per carità il cristianesimo c'è il già e non ancora la prima venuta la seconda venuta tutto questo tema ma come questa immaginazione religiosa si è diventata anche un'immaginazione sociale o anche politica addirittura quindi c'è una relazione stretta il tema dell'individuo che nel cristianesimo prende anche la maschera della persona come si indossa attraverso il cristianesimo l'individuo indossa questa maschera chiamata persona che ha tutta una serie di ricadute che si possono studiare in tutta quell'area di scienze che sono interessate per esempio al diritto al diritto che tratta dei diritti umani fondamentali alla allo sviluppo umano di tipo economico non dello sviluppo economico sviluppo umano amarti a senso tutta questa quindi c'è un campo il vero problema è la parola Dio perché in effetti quella parola come dice Spong in questo libro sì noi continuiamo a rappresentarsela più o meno antropoporficamente ma che cos'è Dio per le scienze sociali in questi casi fino a arrivare a questo ramo che non è più neanche scienze sociali diventano neuroscienze che cos'è Dio nelle neuroscienze diventa una sinapsi che si può localizzare nel nostro cervello nella nostra mente e così via quindi questo è un campo di studio non sono un esperto di neuroscienze ho letto qualcosa però vi assicuro che entriamo in un'altra area in cui cioè tutto viene ridotto a questo si riduzionismo puro a funzionamento del nostro cervello è quello che magari in neurobiologia ancora c'è la particella di Dio però quello è un altro ambito comunque un riduzionismo allora io direi grazie Enzo per grazie a voi per gli stimoli abbiamo quindi la registrazione e gli studenti che non sono stati presenti potranno soffrire di questo e quindi grazie alla prossima e quindi anche buona continuazione per tutti voi grazie a tutti